Quest'anno è un po' particolare, ma Polo Nord Portatile continuerà a incantare famiglie e amici in tutto il mondo con i video personalizzati di Babbo Natale. Oh, ciao Alessandro! Che bello vederti! Hai sette anni, non è vero? Compra un pass magico e ottieni accesso illimitato ai 15 nuovissimi messaggi premium che abbiamo creato per te. Quest'anno scoprirai il villaggio natalizio in miniatura di Mrs. Claus. Parti per una fantastica avventura con i nostri nuovi video interattivi. Alessandro, vuoi seguire la pista del bastoncino di zucchero o quella del pupazzo di neve? Inoltre di nuovo, quest'anno puoi anche inserire fino a quattro nomi diversi nei video di gruppo. Oh, ciao Alessandro! Greta, Francesco e Sofia. È un piacere vedervi. Potrai anche ricevere una chiamata da Babbo Natale durante il video. È un vero piacere sentirti al telefono. Un messaggio da Babbo Natale potrà far sapere ai tuoi piccoli se sono sulla strada giusta per fare parte della lista dei buoni. Più tardi, Babbo Natale farà un annuncio ufficiale per informarli se ce l'hanno fatta. Sei nella mia lista dei buoni! Congratulazioni! E per un periodo di tempo limitato solamente, il tuo pass magico includerà anche bonus esclusivi. Babbo Natale ti assicura che pronuncerà ogni nome correttamente. Riceverai da Babbo Natale il certificato ufficiale della lista dei buoni 2020. Fate in modo che i grandi e piccini si comportino al meglio con il nostro gioco delle buone azioni. E inizia a conoscere meglio Mamma Natale durante le sue sessioni di chat interattiva. Anno dopo anno, Polo Nord Portatile dà vita a un Natale memorabile per tutti coloro che hanno. Buon Natale!